Eh, sì! Zilch ha usato la magia per rinchiudere il re nella sua torre di roccata! Non ci saranno più travestimenti per nessuno! Amici, non è affatto bello! Guarda! I bulldog! Ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? Benvenuti nella cantina di costumi del castello! Questi cani da guardia sono nobili protettori, vedete? Vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete! Hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire! Se volete superare questi bauli che sprecciano veloci, sopra ognuno di loro dovrete saltare! Scommetto che ci sono delle caramelle dentro questa pentolaccia! Per far uscire le caramelle dobbiamo colpire la pentolaccia fino a romperla! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Oh! Si muove! Come arriviamo alla porta se il ponte continua a barcollare? Benvenuti nella campagna del castoro dispettoso! Lui ama venire qui e fare con le carte costruzioni, case, ponti, strade e stazioni! Purtroppo le costruzioni di carta non sono stabili! Ora voglio sapere! Siete abbastanza abili? Restate nei punti laddove vedete il pavimento e alla porta arriverete in un momento! Volante! Sapete come si acchiappano le chiavi volanti? Volete aiutarmi? Devi stare attenta, D-Li! Pato dice che deve prendere l'aereo e ha dimenticato la valigia, suitcase! Giardino di nuovo disordinato! Bisogna farlo tornare di nuovo bello! Come facciamo ad arrivare alla nostra porta con tutti questi scogliattoli che ci volano intorno? Che altro può fare felice di lei, Farfalù? Le dispiace farci passare, Ippopotama! Beh, non credo che voglia farci passare! Benvenuti nella strada degli Aquiloni, dove i koala portano i loro piccoli a giocare! Ma il signore Chu tutti via li ha fatti volare! Aiutate la signora Ippo Gonzales, la loro maestra, ad acchiappare gli Aquiloni con malo l'estero!